Buonasera, buon viaggio, nuovo aggiornamento, muoversi in Toscana, in studio Mauro Ciutini. Rallentamenti in A1 tra Firenze Sud e Firenze in pruneta in direzione Bologna, con suete code all'uscita di Firenze Sud provenendo da Bologna. Andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, anche qui rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze, attenzione anche al vento, in A12 tra Pisa e l'allacciamento con l'Aurelia. Chiudiamo con i lavori a Firenze, via Borghini, i lavori di sostituzione della rete idrica. Fino al 29 novembre sono in vigore di vieti di sosta e un restringimento di carreggiata all'angolo con Piazza delle Cure. Bene, è tutto per il momento, muoversi in Toscana con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.